Svista arbitrali anche a Castellammare al 26esimo, calcio di punizione per il Pescara e Togni con il destro a giro, segna il gol dell'1-0, primo gol in Serie B per Eugenio Togni, Pescara in vantaggio, poi gol piuttosto strano al 38esimo, si fermano un po' tutti, non Scozzarella che ruba il pallone, serve Danilevicius e Danilevicius segna il gol dell'1-1 al 38esimo del primo tempo, situazione di parità tra Juve Stabia e Pesca. Pescara, parità che si spezza all'inizio del secondo tempo con questo destro di Scozzarella che batte Anania, Juve Stabia in vantaggio al quinto del secondo tempo, domina a lungo nella ripresa la squadra di Braglia ma poi fallo di Baldanzetto in su in signe, calcio di rigore, sul dischetto va Immobile che segna il quinto gol in campionato, aveva già sbagliato un calcio di rigore, non sbaglia, questa volta Ciro Immobile sembra finita ma poi fallo di Bocchetti su Remondi, anche qui fuori area per Velotto invece calcio di rigore e con freddezza. Con il cucchiaio, Erpen firma il gol del 3-2.